Causa l'arrivo di nuove piogge potrebbe slittare sulla riviera Adriatica l'avvio della stagione balneare 2023. Vediamo. Lunedì 1 maggio la stagione balneare sulla riviera molisana partirà ufficialmente. I titolari degli stabilimenti lavorano per ripulire l'arenile e iniziare a piantare i primi ombrelloni per l'occasione che coincide con la giornata festiva. Ma probabilmente le condizioni meteo non saranno favorevoli come prospettato dagli esperti del settore. Nei prossimi giorni è previsto infatti l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà precipitazioni piovose diffuse su gran parte della penisola. Sono diversi i comuni che si sono organizzati in eventi artistici, concerti e carresi per attirare i visitatori il 1 maggio, ma il previsto cambiamento climatico potrebbe rovinare molti piani. Per la stagione al mare in ogni caso nulla è compromesso. Si tratta solo di rinviare di qualche giorno l'arrivo dei primi ospiti sulla spiaggia, ma il vero obiettivo resta quello di farsi trovare pronti per i mesi classici della bella stagione luglio e agosto e magari sole permettendo di allungare l'estate alla prima decade di settembre e offrire ai vacanzieri non solo svago sulla spiaggia, ma anche proposte culturali, culinarie e ambientali. Grazie!